Domani notte si festeggia il Capodanno e a mezzanotte, ormai consolidata con suetudine, far esplodere i tradizionali botti e accendere i più colorati e festosi fuochi d'artificio, come bengala, stelle, filanti e vulcani, che rallegrano anche i più piccoli. I botti si sono rivelati però molto spesso pericolosi, non solo per chi li esplode, ma anche per chi si trova nelle vicinanze. Maria Antonietta Brigida, presidente della Feder Consumatori Taranto, In una nota, invita grandi e piccoli a optare solo per fuochi pirotecnici acquistati solo da esercenti che possono garantire la loro provenienza e soprattutto la loro corretta conservazione dal produttore al consumatore, come i negozi specializzati o le catene delle grandi distribuzioni, evitando quelli esposti sulle bancarelle. Non si devono mai acquistare fuochi pirotecnici privi di etichetta o con una non regolamentare, è sempre evitata la vendita inoltre di fuochi pirotecnici ai minori di 14 anni, mentre gli over 14 possono acquistare solo giochi pirotecnici di libera vendita. Per altre categorie di fuochi serve il porto d'armi. Brigida inoltre sostiene che si dovrebbe abbandonare del tutto l'usanza di sparare i botti, soprattutto se maneggiati da artificieri improvvisati. I telegiornali del primo gennaio infatti sembrano un bollettino di guerra con l'elenco dei feriti e purtroppo a volte persino di morti. Peraltro i petardi più rumorosi possono spaventare anche i nostri amici a quattro zampe che hanno un udito finissimo e che possono persino riportare danni permanenti. Brigida infine auspica che tali consigli vengano eseguiti al fine di passare una nottata divertente senza spargimenti di sangue. Grazie. Grazie.